Vale esattamente la stessa cosa, nel senso l'attenzione non deve essere meno nemmeno in questo caso, devono essere denunciate, devono essere poste all'attenzione, ovviamente ci sono già anche alcune considerazioni che la Lega ha fatto e che la Federazione ha fatto, io mi auguro che anche in questa direzione, anche in questo caso e anche per questo, vengano presi dei provvedimenti seri in tutti gli Stati d'Italia affinché queste minoranze, perché ci sono, ma sono delle minoranze, ricordiamolo, vengano punite e vengano considerati questi gesti con la dovuta punizione seria e forte da parte della Lega, delle Federazioni e dello sport tutto, perché è giusto che tutto lo sport si indigni. Assolutamente no, non dobbiamo mai abbassare la guardia, ha fatto bene secondo me il Presidente Mattarella a richiamare l'attenzione, ha fatto bene la Lega insieme alle comunità ebraiche a prendere quell'importante decisione, ma dobbiamo sempre stare attenti, sempre alzare alla guardia, perché non si ripetano fatti come questo. Io l'ho detto in una risposta alla collega Ministro dello Sport israeliano, che mi aveva scritto una lettera alla quale ho risposto, come governo dobbiamo impegnarci di più, faremo di più, perché culturalmente dobbiamo fare ancora un passo in avanti. Un segnale importante da parte dello Stato, lo avevamo detto qualche mese fa, durante i mille giorni del governo Renzi, era un impegno e ci eravamo presi. Oggi è un bel giorno, si dà il via ai lavori di un impianto importante sportivo e non solo. È la risposta che dà lo Stato nelle nostre periferie, per riportare le nostre periferie al centro. Può sembrare un gioco di parole, ma non è così. Oggi però inizia un percorso, è un punto di partenza, non deve essere considerato un punto di arrivo, perché dovremo lavorare seriamente tutti insieme in un gioco di squadra con tutte le amministrazioni coinvolte, perché finalmente poi si veda la fine di questi lavori e si vedano i risultati di un lavoro che viene lungo il tempo al di là delle amministrazioni e tutti insieme dobbiamo realizzare. C'è un problema di strutture sportive nel nostro paese e vorrei definirlo anche un gap negli ultimi vent'anni di infrastrutture sportive in tutto il nostro paese. Noi abbiamo provato a dare delle risposte concrete tramite il bando Sport e Periferie lo scorso anno, riconfermando il Fondo Sport e Periferie per il prossimo anno con ulteriori 100 milioni di euro di investimenti e rendendo stabile in finanziaria questo fondo per i prossimi anni a venire. È una risposta concreta che il pubblico dà a queste esigenze e a questo problema. Abbiamo parimenti messo un'altra risposta importante, lo sport bonus, dando detrazioni fiscali fino a 20 mila euro per i privati che hanno voglia di intervenire. Preoccupa ma non a causa delle proteste dei lavoratori, a causa dei debiti. È una delle mille situazioni di groviglio amministrativo e di inefficienza che ci si stanno scaricando addosso. Non c'è una situazione ordinata, una. Credo che faremo su Bagnoli una operazione verità. Credo che siamo a questo punto a 15 milioni di euro di debiti. E c'è ancora la tendenza a immaginare che le cose stiano in piedi per ragioni magiche. I bilanci sono i bilanci e le strutture devono fare i conti con i bilanci. E questo vale anche per città della scienza. Ma è possibile anche concludere un ragionamento serio anche con la Lombardia che ha una posizione diversa dal Veneto. Io sarei interessato anche ad avere un'iniziativa a Milano con Maroni per confrontarci e per confermare il fatto che su una posizione di buon senso e di ragionevolezza, una volta ovviamente affermata in maniera inequivoca l'unità del Paese nell'ambito della Costituzione. È assolutamente possibile trovare intese ragionevoli. D'altra parte la stessa votazione fa a Maroni, disponibili a mantenere un contributo di solidarietà sulle infrastrutture e non sulla spesa pubblica. Sono totalmente d'accordo. Dico anche di più. Quindi scavalco il mio amico Maroni. Credo che dobbiamo porre anche un limite agli interventi di solidarietà verso il Sud. Non possiamo immaginare che in eterno ci sia questa logica. Noi dobbiamo darci dieci anni di tempo e in dieci anni di tempo dobbiamo fare quello che ha fatto la Germania orientale per recuperare i ritardi. Se no, buonanotte, ognuno si pianga il suo destino. Ma insomma è arrivato il momento di avere rigore e serietà. Poi dovremo insieme combattere contro posizioni di centralismo che in qualche caso sono intollerabili e ci fanno perdere solo tempo. Ma per approvare una legge ci volevano maggioranza parlamentare. E in questo Parlamento i principali responsabili sono i rappresentanti delle Cinque Stelle che per quattro anni hanno detto che non parlavano con nessuno se non con i loro consiglieri spirituali che stanno a Milano uno e a Genova l'altro. Pace all'anima sua. Noi siamo molto solidali. Però il problema è questo. Se hai esponenti parlamentari che programmaticamente decidono di non parlare con nessuno è evidente che poi ci si regola con le maggioranze possibili. Quindi mi sono chiari tutti i limiti di questa legge. Ma è evidente che una qualche legge bisognava darla a questo Paese. La fanno gli esponenti politici. Una discussione aperta sul risultato della legge. Ora dire che sia una legge entusiasmante mi pare troppo. Il problema dell'Italia è sempre quello. Sappiamo tutti quanti quello che sarebbe utile per garantire la governabilità del Paese. Io sono per un maggioritario secco, senza sbavature e problemi. I guardi Berlusconi e Forza Italia rispettano le istituzioni, rispettano le prerogative del Capo dello Stato e del Presidente del Consiglio a cui spettano tutte le competenze relative alla nomina del Governatore di Banca Italia. La vicenda della mozione del PD è indicativa del modo e dello spirito con cui il PD si approccia a queste questioni. Hanno utilizzato Banca Italia e il vertice di Banca Italia come un alibi per coprire anche le loro responsabilità in merito alla crisi del sistema bancario italiano. Utilizzano una istituzione autonoma, indipendente, una delle istituzioni più prestigiose del nostro Paese che sicuramente in questi anni probabilmente non avrà vigilato come doveva, ma c'è una commissione bicamerale che approfondirà queste questioni, ma loro hanno utilizzato questa istituzione per un regolamento di conti all'interno del Partito. Sono anni che il PD scarica le sue tensioni interne sulla pelle del Paese. Ma questo non è vero, questa non è la migliore legge elettorale, senza dubbio non è la legge elettorale che Forza Italia avrebbe voluto, Forza Italia avrebbe preferito un sistema proporzionale, però è l'unica mediazione possibile, è l'unica mediazione che i partiti, i principali partiti di maggioranza e di opposizione hanno ritenuto percorribile. Era necessario dare al Paese una legge elettorale, rispondere al monito, all'appello del capo dello Stato Mattarella per dotare il Paese di una legge elettorale omogenea che potesse finalmente mettere il Paese nelle condizioni di tornare al vuoto. Dire il vero lo sport italiano ha bisogno di essere supportato da strutture, è vero, l'intero territorio è carente, non è vero perché le garantisco che soprattutto al nord, in molte regioni di confine c'è una situazione di piantistica che è eccellente, ben oltre la media europea, anzi per certi versi forse il vero problema sarà continuare a poterli in manutenere e gestire al meglio, mentre in alcune regioni del sud, è chiaro la Campania della Sicilia, sono quelle che più hanno questa esigenza perché hanno una tale densità abitativa, un tale livello di popolazione che i problemi si esasperano, magari è quello che può essere di una regione come può essere la Calabria o la stessa Sardegna, però stiamo facendo, il fondo sport e periferie è infatti intervenuto in un modo importante proprio da queste parti, questa è la dimostrazione, ce ne saranno molti altri che sono stati già individuati e avranno questi fondi perduti, è in moto la dinamica delle gare e degli appalti, credo che dà speranza questo, come è giusto che sia. Abbiamo fatto questa iniziativa di colletta, noi la chiamiamo in azienda, ma in realtà in questa istituzione che è la regione Piemonte, con un doppio scopo, uno prima di tutto è quello di ricordare anche in un ambiente di lavoro per un momento le persone che sono in difficoltà, due anche per sì che ci sia un incremento del prodotto che noi possiamo raccogliere. In questo caso, dentro questi uffici della regione Piemonte è venuto anche il presidente Camparino a nome di tutto il Consiglio ed è un segnale importante di un rapporto che esiste con la regione Piemonte e consolidato oramai da anni. Diciamo che è un'iniziativa che ci riempie di soddisfazione, anche un po' di orgoglio perché è la prima, da quello che mi dice Collarino, è la prima iniziativa di un'istituzione pubblica a livello nazionale, diciamo, di sostegno concreto alla raccolta del banco alimentare che già normalmente viene fatta e contiamo di allargarla anche, insomma, a partire di qui per allargarla anche a altre sedi della regione. Mi auguro che anche altre istituzioni seguono l'esempio che è un modo per rendere un po' più capillare e ramificata la raccolta che già viene fatta, mi pare, il 25 novembre, non il 24-25 novembre. Io sono la promotrice insieme al mio collega Roberto Parolisi sul lancio di questa iniziativa per fare in modo che sensibilizzare comunque le persone a questa giornata del banco alimentare. Il banco alimentare sappiamo che negli anni è stato un punto di riferimento per questa regione, per tutte le regioni, assolutamente un punto di riferimento per tutte le associazioni e per tutta la gente che ha bisogno. Diciamo che è un'iniziativa che ci riempie di soddisfazione e anche un po' di orgoglio perché è la prima, da quello che mi dice Collarino, la prima iniziativa di un'istituzione pubblica a livello nazionale, diciamo, di sostegno concreto alla raccolta del banco alimentare che già normalmente viene fatta e contiamo di allargarla anche, insomma, a partire di qui per allargarla anche a altre sedi della regione. Mi auguro che anche altre istituzioni seguano l'esempio che è un modo per rendere un po' più capillare e ramificata la raccolta che già viene fatta, mi pare, il 25 novembre, non il 24-25 novembre. Con l'interrogazione del collega Valente del Movimento 5 Stelle sottopone alla mia attenzione il tema della trasparenza e dell'eguaglianza nella ripartizione da parte del CONI del contributo alle federazioni sportive. Come Ministro dello Sport la questione posta mi sta ovviamente a cuore e sono felice di poter scambiare due opinioni con voi e rispondere nel merito. Mi preme tuttavia far presente all'On. Valente che il quesito mi pare un attimo viziato da un errore di fondo che è quello di non prendere in considerazione l'attuale natura del CONI che è oggi un ente pubblico associativo in regime di autoamministrazione. L'On. Valente infatti sa benissimo che il CONI è una confederazione di associazioni private che sono federazioni e le discipline associate sportive. Con un gioco di parole non bellissimo potremmo dire che è ad oggi la situazione attuale che il CONI è una associazione di associazioni. Se il CONI è un'associazione di federazioni è normale una interdipendenza tra l'una e le altre. Negli organi direttivi del CONI vi sono i rappresentanti delle federazioni i quali partecipano ovviamente a tutte le decisioni e ne orientano le scelte. Allo stato attuale non è immaginabile un modello che escluda il CONI dalle scelte in merito alla distribuzione delle risorse alle federazioni sportive e alle discipline associate. Semmai è da domandarsi, e questa è una cosa che è una riflessione molto più ampia e che mi interesserebbe allargare anche in altri momenti, se trattandosi di finanziamenti pubblici non sia immaginabile una ripartizione equa, trasparente e imparziale sulla base delle indicazioni operanti dagli organi rappresentativi di tutti i cittadini, o se una soluzione di questo tipo finisca per ledere l'autonomia e l'indipendenza del mondo sportivo. Quindi, per venire alla risposta più puntuale da parte di questo Ministero, è evidente che il Ministero nelle sue funzioni e nello svolgimento del suo ruolo di controllo farà tutto quello che è necessario per verificare la distribuzione da parte del CONI presso le federazioni di questi finanziamenti. Però, visto che in questa sede, qualche mese fa, abbiamo discusso del limite dei mandati, ci siamo anche allargati ad altri argomenti, mi sembra opportuno sottolineare come, magari non entro la fine di questa legislatura, ma il sistema di revisione del rapporto tra governo e quindi ruolo istituzionale pubblico e CONI, non debba e non possa e non sia da rivedere in base a quelle che sono normativamente le nuove eventuali previsioni di legge che potremo attuare in questo. Grazie. Non è all'orizzonte, è nel passato, lo abbiamo detto da anni che Verdini è il socio occulto di questa maggioranza, è il socio nascosto, lo è sempre stato, pronto a intervenire e fare la stampella al governo ogni volta che è necessario. Abbiamo chiesto che si prenda atto, che il governo non ha più la fiducia, per esempio, la fiducia non è stata votata dalla maggioranza dei parlamentari, qualcuno, questo l'ha fatto notare, hanno votato in 150 col soccorso di Verdini. Quindi forse il governo dovrebbe rivedere i suoi numeri e la sua fiducia. C'è ancora la fiducia del governo? Il governo esiste ancora? Il governo è ancora il governo di questo paese o è un governo, uno zombie che sta camminando sulla base di una maggioranza che non ha più? In una campagna elettorale nella quale si parla di tutto, meno che dei problemi dei siciliani, noi con Fratelli d'Italia e con la lista Nello Musumeci Presidente siamo qui oggi al Waterfront di Messina per denunciare una questione molto concreta. L'assenza di una infrastruttura che cambierebbe il destino della città di Messina, partendo dal turismo e non solo, ferma da sette anni, nonostante ci sia un progetto approvato, nonostante ci siano le risorse per costruirlo, per l'incapacità di chi ha governato questa regione e di chi governa questo comune. Siamo qui per dire che se i cittadini siciliani ci daranno una mano, qui cambierà completamente musica. Ci si metterà a lavorare sulle questioni che possono fare la differenza per il futuro di questa terra straordinaria, partendo da infrastrutture che possono generare turismo e ricchezze. La legge elettorale approvata ieri dall'Aula del Senato è per Fratelli d'Italia una legge liberticida, una legge che impedisce ai cittadini di scegliere il loro governo, di scegliere i loro rappresentanti, che molto probabilmente consegnerà l'Italia all'ingovernabilità. Noi non l'abbiamo votata e siamo fieri di essere rimasti l'unico partito dell'arco costituzionale a non essersi mai seduto a trattare queste vicende con Renzi. Siamo partiti con un concorso per 500 professionisti dei beni culturali, archeologi, architetti, archivisti, bibliotecari, antropologi, eccetera. Quei 500 sono già diventati 800 e quindi in alcuni settori le assunzioni si sono già completate e in altri stanno finendo perché erano concorsi con più concorrenti. Nella legge di bilancio che sta per essere conclusa e inviata alle Camere c'è una norma che consente di arrivare a mille, cioè il massimo che era previsto dalle idoneità possibili in quel concorso. La tutela non è immobilità. Il paesaggio, soprattutto il paesaggio italiano, anche quello rurale, anche i luoghi più belli del nostro paese, sono quasi tutti frutto dell'attività dell'uomo. Le nostre città, anche questo palazzo, è frutto di sedimentazioni, di stili, di epoche che si sono mescolate e sovrapposte gli uni alle altri. Allora io penso che tutela non sia soltanto conservare, è certo conservare, ma non sia soltanto conservare, sia anche innestare, perché ogni generazione deve innestare qualcosa che appartiene, trasmettere, lasciare qualcosa che appartiene a quel tempo e quindi con qualità, per carità, ma apportare innovazioni. Questo vale anche nei nostri centri storici. Aggiungo, perché è un elemento che è emerso nel dibattito, ci sono stati i due referendum, i due referendum comunque mettono in moto un meccanismo di, metteranno in moto, sarà anche questo un tema della prossima legislatura, un meccanismo di trattativa Stato-Regioni sul federalismo differenziato. Paesaggio, dico la mia opinione, paesaggio e beni culturali non possono entrare in questa trattativa. Se c'è un patrimonio, che è un patrimonio complessivo della nazione, come ci ricorda l'articolo 9, e che non può avere un trattamento differenziato regione per regione, è esattamente questo. Senz'altro la legge elettorale aiuterà questo Parlamento a fare decisioni e a fare leggi più veloci e più univoche. Il sistema legislativo identico in un ramo del Parlamento e nell'altro non può che migliorare l'attuale livello che il Porcellum aveva fatto raggiungere. Darà maggiore stabilità al Governo, proprio perché si tratterà di un Governo che sarà rappresentato con numeri identici sia alla Camera che al Senato. Per cui la posizione di civici e innovatori è quella di sostenere con convinzione l'entrata in vigore al più presto proprio del Rosatellum. La migliore possibile date le circostanze. Siamo in una situazione nella quale, ed è un bene che sia così, non un solo partito e non una sola coalizione possono scrivere una legge elettorale, dunque c'è stato bisogno di un accordo ampio. L'accordo ampio io lo ritengo soddisfacente, non è la legge ideale ma la trovo una legge assolutamente condivisibile che dà l'opportunità ai cittadini di scegliere. C'è un effetto moderato maggioritario che non stravolge i numeri che vengono dati dagli elettori ma consente con un piccolo effetto maggioritario di avere la maggioranza anche senza avere la maggioranza assoluta dei voti. Buongiorno Presidente, mi chiamo Fabio Sinani della scuola di Longofreddo. Quando gli capita di firmare degli atti che non gli piacciono, come si comporta? È una bella domanda. Quando mi arrivo a qualche provvedimento o una legge del Parlamento o un decreto del Governo, io anche se non lo condivido appieno ho il dovere di firmarlo, anche se la penso diversamente. Devo accantonare le mie convinzioni personali perché devo rispettare quello che dice la Costituzione che la scelta delle leggi spetta al Parlamento e la scelta dei decreti che guidano l'amministrazione dello Stato spetta al Governo e se non firmassi andrei contro la Costituzione. C'è un caso in cui posso, anzi devo non firmare, quando arrivano leggi o atti amministrativi che contrastano palesemente in maniera chiara con la Costituzione. Ma in tutti gli altri casi non contano le mie idee perché non è a me che la Costituzione affida quel compito di fare le regole con le leggi o di guidare la macchina dello Stato, ma le affida ad altri, al Parlamento e al Governo. E io ho l'obbligo di firmare perché guai se ognuno pensasse che le proprie idee personali prevalgano sulle regole dettate dalla Costituzione. La Repubblica non funzionerebbe più. Grazie Presidente. L'Unione Europea negli ultimi anni ha dimostrato tutta la propria fragilità politica nel fronteggiare più che una crisi migratoria, una crisi che definirei istituzionale nella gestione del flusso dei migranti. Non si risponde al tema dell'immigrazione illegale pensando a politiche di chiusura e di esternalizzazione del controllo delle frontiere nei confronti di chi fugge da guerra e miseria. Il Consiglio nel recente summit ha dichiarato di essere pronto a vigilare su tutte le rotte migratorie, ma si continua a sottovalutare il fatto che le nuove rotte verso l'Europa potrebbero rivelarsi più pericolose delle precedenti e soprattutto si continua a non vedere che nel frattempo a farne le spese di una politica non all'altezza sono decine di migliaia di migranti vittime di stupri, detenzioni illegali e abusi di ogni sorta. Ora appare evidente, a differenza di ciò che immagina nella sua complessa attività onirica l'On. Salvini, la necessità di un cambiamento di approccio che affronti le sfide strutturali che sono la reddice di questo processo, quale il sottosviluppo, la crescita demografica, le disuguaglianze, l'assenza di opportunità e i cambiamenti climatici e governare tale processo attraverso il rafforzamento della legislazione comune in materia di asilo e immigrazione. Solo un approccio coordinato, basato sui principi di solidarietà, condivisione equa delle responsabilità e forti investimenti finanziari, potrà fornire risultati tangibili in questa sfida decisiva per la stessa Europa. Sì, ringrazio il collega che ha citato la procedura sugli squilibri macroeconomici e volevo chiedergli appunto se non crede che sia arrivato il momento di procedere con anche delle sanzioni verso questi paesi, visto che sono proprio i paesi più rigoristi che chiedono molto spesso ai paesi periferici di rispettare le regole, però sono loro a non rispettarle e oppure ricevono continuamente delle raccomandazioni molto blande. Se non è il caso di chiederle al commissario, visto che qua dovrebbe risponderci. Benvenuta a Roma, maestà. Siamo felici di accoglierla nel cuore della nostra città, nel cuore della capitale d'Italia, dove sono custodite le testimonianze storiche, culturali ed archeologiche che hanno reso Roma tanto ammirata e amata nel mondo. Quel patrimonio culturale immenso e straordinario, verso cui lei e il suo paese dimostrano tanto affetto e attenzione. Saluto inoltre l'ambasciatore di Danimarca in Italia, Sua Eccellenza Eric Bilstrup-Lorensen, la direttrice dell'Accademia di Danimarca, professoressa Marian Pade, il direttore della Fondazione Carlsberg, professor Flemming Bettenbacher. Gentili ospiti, oggi per Roma è sicuramente un giorno speciale. È il giorno in cui rendiamo ancora più visibile all'Italia e al mondo quel meraviglioso atto di mecenatismo della Fondazione Carlsberg di Copenhagen, che grazie alla convenzione siglata nel marzo scorso tra la sovrintendenza capitolina ai beni culturali con l'Accademia di Danimarca, consentirà l'ampliamento del Foro di Cesare, ad oggi l'unico dei cinque complessi architettonici imperiali ad essere visibile nell'intera lunghezza originaria. Un gesto bellissimo quello della Fondazione Carlsberg, che testimonia l'attenzione culturale e il segno di amicizia verso Roma e la sua storia. Colgo dunque l'occasione per manifestare, a nome mio personale e di tutta la città di Roma, un sincero ringraziamento alla Fondazione Carlsberg per la sua generosità e per la sensibilità culturale che sta dimostrando verso il nostro patrimonio storico e culturale, per quella e testimonianze archeologiche che Roma ha ereditato dal suo grande passato. Vitalizzare la collaborazione virtuosa fra pubblico e privato è per noi importante, perché riteniamo sia necessario individuare tutti i mezzi utili alla valorizzazione del patrimonio di Roma. In questo senso dunque il mecenatismo è prezioso, ci aiuta a ridare vita ai capolavori che costodiamo da millenni, ci aiuta a scoprire, come sarà nel caso del Foro di Cesare, nuovi ed importanti dati storico-scientifici che daranno nuovi contributi alla conoscenza dell'intera area archeologica dei Fori. Tutto questo all'interno di quel percorso di risistemazione dell'area promosso dalla sovrintendenza capitolina ai beni culturali e dalla allora sovrintendenza speciale per il Colosseo e l'area archeologica centrale di Roma. È importante fare tutto questo perché Roma, la nostra città, non è solo la capitale d'Italia, ma è patrimonio dell'umanità e questo non lo dobbiamo mai dimenticare. Noi sentiamo profondamente il valore racchiuso in ogni angolo di Roma. Sentiamo la responsabilità di accogliere milioni di turisti all'anno che arrivano da ogni parte del mondo per ammirare luoghi come i Fori Imperiali o il Colosseo, luoghi unici al mondo. Ed è per questo che ci adopereremo fino in fondo per rendere Roma e la sua cultura sempre più visibile e accessibile a tutti. In questo senso un altro importante passo sarà proprio la conoscenza più ampia del Foro di Cesare. Per questo ringrazio ancora una volta a sua mestà la regina di Danimarca Margrethe II e la Fondazione Kalsberg di Copenhagen per l'amicizia e la generosità che dimostrano verso Roma. Un grande ringraziamento anche all'Accademia di Danimarca che condividerà con la sovrintendenza capitolina la realizzazione di questo progetto. Grazie infine a tutti coloro che si sono adoperati per la realizzazione di questo ulteriore sodalizio tra Roma e la Danimarca che rende il nostro rapporto ancora più intenso e proficuo. Allora la quantificazione fatto un conto della serva essendo il 2,9% facciamo il 3 per fare una cifra tonda sul monte salari che è circa 40 miliardi parliamo di un miliardo 2, un miliardo dei tre al massimo. Va da sé che senza questa cifra nel fondo non si può fare tutto qui. Quindi noi siamo pronti, la palla al Parlamento. Bene oggi il Comitato ha visto gli ultimi affinamenti degli atti di indirizzo che riguardano la dirigenza sanità e quindi anche su questo punto si può chiudere, si può procedere. Ecco dal punto di vista formale quindi tutto a posto, si potrebbe fare il contratto nuovo in sanità. Diciamo si potrebbe perché è evidente che se il Governo e il Parlamento non fanno la postazione di risorse nel fondo purtroppo si rinvierà tutto l'anno 21.